A Teramo l'incendio di ieri pomeriggio ha distrutto uno dei palloni presso statici che coprono i campi da tennis del circolo Bernardina la Gammarana. L'episodio si è verificato attorno alle 13 quando le fiamme divampate sembrerebbe da un palo della luce adecente al recinto del circolo si sono propagate rapidamente dagli erbusti, all'erba secca ed alcuni alberi. A dare l'allarme è stato il genitore di un bambino che aveva appena terminato la lezione di tennis. Quando al telefono mi hanno chiamato che stava bruciando il pallone e le piante circostanti la prima impressione è la tragedia, vedi nero, poi arrivi e speri che il danno sia poco e poi il pomeriggio lo guardi e cominci a conteggiare quella che è la vera entità del danno e il dispiacere enorme e incommensurabile. La vera entità del danno speriamo che non sia così grande, però sicuramente il danno c'è. Fortunatamente non ci sono stati feriti nonostante in un campo adecente a quello del pallone danneggiato ci fossero un istruttore con due giovani allievi che si sono subito allontanati. Capire chiaramente che cosa è successo e poi casomai tutelarci nelle sedi opportune, però adesso l'emergenza è finita, ieri c'era il dolore, oggi comincia una parte razionale, voglio dire, dove cercheremo di capire, vedere, risolvere, perché in primis noi abbiamo a cuore l'interesse dei nostri bambini, dei nostri utenti e poi chi di dovere ci dirà che cosa è successo perché noi comunque siamo curiosi di saperlo. La struttura interessata è inutilizzabile, ora bisognerà capire se potrà essere riparato o dovrà essere sostituita. I responsabili del circolo hanno già richiesto una consulenza a una ditta specializzata. Ieri abbiamo poi di corsa mandato foto e chiesto pareri all'azienda che produce il pallone da cui ci serviamo di solito che sta a Varese, ci hanno detto che loro sicuramente devono ricevere il pallone in azienda per poter fare un preventivo dettagliato e puntuale sull'entità. I tempi sono sicuramente che questo mese saremo un attimo in emergenza perché quella è la struttura dove noi ospitiamo i bambini della scuola tennis, gli adulti, gli allievi del corso adulti, quindi tutta l'attività tecnica del nostro circolo si svolge là.